segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dizionario della lingua italiana sono andato a vedermi la definizione della parola dignità ve la leggo testualmente la dignità è la condizione morale in cui si è posti per la propria condizione umana e al tempo stesso è il rispetto che in quanto che umani si ha il diritto di esigere bella la definizione della parola dignità totalmente inutile ma bella inutile perché chissà se la definizione della parola dignità beh chissà se sarebbe questa se colui che ha scritto il vocabolario avesse conosciuto per esempio il caso di musa balde quell'immigrato 23 anni del gambia che per strada qua è stato incontrato da tre italiani è stato smazzato di botte perché pensavano che stesse per rubare un telefonino l'hanno ridotto talmente male fra bastonate pugni e calci che è stato ricoverato in ospedale c'è rimasto per molto tempo quando è uscito dall'ospedale ancora con gli ematomi i lividi addosso l'hanno chiuso dentro un cpr dentro un centro permanenza per il rimpatrio e lì musa balde ancora con le echimosi ancora con gli ematomi ancora con i lividi è entrato dentro un gabinetto e si è impiccato morto si è tolto la vita la dignità sta nel dizionario la dignità chissà se colui che ha scritto la definizione della parola dignità conosce il caso di wahad iracheno 34 anni che dentro un cpr pure lui si è scolato per farsi fuori mezza tannica di detersivo l'hanno ricoverato gravissimo in ospedale quando per fortuna si è rimesso e ne è uscito fuori dopo varie settimane l'hanno chiuso pure lui dentro un cpr lui l'hanno chiuso addirittura in isolamento per punirlo che aveva tentato di farsi fuori ma dentro l'isolamento wahad ha trovato un lenzuolo ci ha legato una maglietta e si è impiccato pure lui ammazzato la dignità bella parola la dignità bellissima parola la dignità chissà se colui che ha scritto la definizione dentro il dizionario di dignità conosceva il caso per esempio di hamed arrivato qua in italia pure lui con la moglie con un bambino piccolissimo beh ma hamed là dentro un cpr si è buttato giù per farsi fuori la batteria del cellulare si è buttato giù tre lamette e tutti quanti hanno cominciato a gridare a un bambino a una moglie a un bambino piccolo ma non importa dentro i cpr si muore si muore anche per mancanza di dignità chissà se colui che ha scritto la definizione della parola dignità conosceva il caso di rashid che per farsi fuori dentro un cpr si è mandato giù dieci volte la dose consentita di rivotril c'è scritto dappertutto a caratteri cubitali con i pennarelli fuori dai cpr dateci il rivotril vogliamo il rivotril è un assiolitico potentissimo è uno psicofarmaco e molte volte è l'unico modo di fuggire di andarsene di andare da un'altra parte l'unico modo di risolvere l'unico modo di prendersi quella dignità che è una bellissima parola ma la dignità non te la dà nessuno e anzi per assurdo vieni a cercarla in un paese come il nostro dove dentro il dizionario c'è la parola dignità e allora do un'indicazione do un consiglio do un'opinione da un parere alle prossime edizioni del dizionario secondo me sarebbe meglio per correttezza a scanso di equivoci sarebbe meglio intanto riformulare con il condizionale è così con il condizionale per la serie la dignità sarebbe in teoria la condizione morale a cui si è posti per la propria natura umana e sarebbe il rispetto al quale in quanto che umani si dovrebbe poter ambire però aggiungerei per correttezza dentro il dizionario tranne che in italia tranne che nel 2023 tranne che dentro i cpr tranne che sei un migrante nel caso in cui tu rientri in una di queste categorie tieni presente e andrebbe scritto della dignità non ne debatte niente a nessuno